Katos ci prova, ci riprova, insegue il lock Ok, adesso dovrei aver risolto con la connessione Ho cambiato server Francoforte pare sia più... No, neanche Non so che dire Attenzione a Tyrone, comunque al 30% degli HP Eh, questa è una cosa che Può succedere dopo un game contro l'SD In questo caso c'è stato Stormeralda che aveva fatto una Lash sul Tillion Mentre Krato era sul lock Comunque sono dei game che ti drainano proprio mentalmente Sì, a livello cerebrale, sono d'accordo Credo sia... Dampening Statico come gioco Io per terra vedo un miliardo di palline, tra le altre cose Sì, attenzione, Krato self ha tirato sia la stand che... Comunque talmente questo l'SMoth non sta facendo neanche chissà che danno Non c'è il danno perché il... Diciamo manca il clone del druido Che è quello che ti fa poi rimanere indietro un target di healing O chiudere un game offensivamente Il Monk è praticamente una versione del pala modificata Con più healing E la stessa quantità di cc che può prendere Sì, non rischi, hai cercato un punto Intanto EX solo la banni per Pillar Vabbia Il padre sta reccando dietro dal Pillar E viene interrotto da Unlashed Sì, ha recato me la mana I dillian è uomo comunque A quanto sia... Sì... A questo punto potrebbe essere game questo, eh Zardio, quanto siamo di Dampening? Che io non posso vederlo Che è comunque un buon quantitativo Sì, adesso devo solo stare attenti a non farsi chiudere ora Perché veramente è buono Attenzione Kratos Il Dillian non riesce a reccare È totalmente omidile Vanno ti... Ah... Certo è in rischio, eh Devo far pressure ora Devo forzare Dillian a castare Il padre ha giocato molto bene questo game Sì, sì, sì Sì, sì C'è ne ha creato Swap vita Swap vita da parte di butter Comunque c'è da dire che Dillian In questo match Non è riuscito a conservare la barra di mana Che c'era nel match precedente No, no Ovviamente bisogna tenere a mente Che ha la possibilità di reccarlo quanto vuole Ovviamente io al posto di Stormair Alla stesso punto Che creare lo shooting mist Per non permettere Cioè Non permetterà al Monk di reccare Certo Sì Cioè Dillian è veramente Un'innozione di figlio Ti tenete di Dillian? Deve pushare È la loro L'occasione È la loro possibilità di chiudere il match Infatti stanno giocando Veramente aggressivi Totalmente all-in Shield wall offensivo Praticamente Però Dillian è in difficoltà Continuano il chasing Grado non si stacca Fulfiare sui Dillian Connesso Non c'è il Tremor Intanto Anishin si è acceso Anche la Ha forzato la rage da solo Gravo Sì Se è Cocoon È nullo È nullo È quasi il 35% È 32% Quindi adesso Se tengono la pressure Che ci sono rimasti A Pater Oggi Pater Pater C'è un Trinket in 20% No Non è rimasto nulla Forse è l'angelo Che non vedo Tanto continua Il chasing Su Su Tiron Vuole ucciderlo Con tutto se stesso C'è il gate Vediamo se Continua a cesare C'è l'olabanni Che chiesa Drasticamente Tiron Questa è la Attenzione Fulfiare sui Pater Tremorato Istantaneamente Dillian intanto Prova a recuperare Quella più po' di mana Con La stazione a questo Dark Soul Dark Soul di Tiron È morto Ma c'è la Kill Ma c'è la Kill Qui è stato un ottimo Il game l'ha fatto Pater Coprando mana In tutto il game Forse Una decina di volte Mantenendosi sempre Lo stesso vero di Tiron Ha mandato A un monk Non è una cosa semplice Da fare Qua il fatto comunque Di non giocare col Supremo Si fa sentire In questa parte del game È andata molto bene Al link Perché Comunque Con il monk Con l'output Dealing Del monk Riesce bene o meno A tancare i danni Le ore a Kratos Se si finisce Veramente è un bel game Comunque Si si Piacerebbe avere Kratos In In TS Se forse è possibile Adesso lo invitiamo Un attimo solo Che è Ok Io adesso Deve di fare Un 10 minuti di pausa Si Magari intanto Lanciamo l'invito A Kratos Se fra 10 minuti Un quarto d'ora È pronto Lo invitiamo su TS Così sentiamo anche da lui Come ha vissuto Questi due match Ok Allora ragazzi Seguono lo stream Ci vediamo tra 10 minuti Torniamo in live E continuiamo con le frasi finali Del torneo A partire dalle 9 Aspetto tutti Per Per la gran finale Chi si oggi dirà Il premio Di 90.000 gold Ricordo Il primo posto 39.000 Per il secondo E 21.000 Per i terzi qualificati Quanto facciamo Di pausa Ciao amore No 10 minuti Ok Un attimo Un attimo Un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.